Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con l'informazione locale di Radio Civita in questo lunedì 3 febbraio 2020. In primo piano c'è una persona iscritta nel registro degli indagati per la morte della 51enne romena trovata cadavere nel Garigliano lo scorso 10 ottobre. Secondo quanto riportato dal quotidiano latino oggi si tratta di un imprenditore agricolo di Minturno che potrebbe aver trovato la donna a rubare pollame nella sua proprietà. Ovviamente proseguono le indagini. Politica da sabato 1 febbraio a seguito della Brexit con l'addio della Gran Bretagna all'Europa. Il sindaco di fondi Salvatore De Meo che era stato eletto alle elezioni della scorsa primavera salvo poi vedersi congelare il seggio è ufficialmente un eurodeputato. Ascoltiamo un estratto dell'intervista a De Meo che trovate anche in podcast sul nostro sito web. Nei giorni scorsi il mio partito ha concluso le trattative proprio per addivenire ad un ricollocamento dei seggi suppletivi e a me è stata affidata la titolarità della Commissione Agricoltura e la supplenza nella Commissione Mercato Comune e Consumatori. Inoltre farò parte delle delegazioni degli stati stranieri come effettivo nella Serbia e come supplente nella Russia. Sono due posizioni strategiche. Tra l'altro intendo anche recuperare il lavoro posto in essere dal Presidente Tajani e da altri parlamentari. Così come credo di poter tranquillamente lanciare un appello a tutti gli italiani che nella Commissione Agricoltura possano far tesoro anche della mia presenza perché il territorio di questa provincia e di questa regione a vocazione agricola possa essere considerato nelle sue effettive potenzialità. Sempre per la politica nel fine settimana prima Assemblea Nazionale di Italia Viva il neopartito di Matteo Renzi si è riunito a Roma sul palco l'unico pontino a prendere la parola il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli. Ascoltiamo un estratto del suo intervento. Quando ho deciso di aderire a Italia Viva la prima domanda del mio edicolante la mattina come esce l'articolo sul quotidiano provinciale ma perché è aderito? Questo non ti conviene in ottica locale io andrò al rinnovo dell'amministrazione l'anno prossimo nella regione Lazio quindi potete capire che cosa voglio dire difendendo fino alla fine i valori in cui crediamo senza stare lì a pensare che oggi siamo pochi perché se li difendiamo con costanza e coerenza fra poco saremo tantissimi. Grazie e buon lavoro. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 ora più importante dell'Italia con inviati accreditati in sala stampa e on the road per le strade di Sanremo ovviamente seguiteci sia in diretta che in podcast perché sarà un'esperienza unica anche per voi radioascoltatori per questa edizione del nostro appuntamento con l'informazione locale è tutto noi vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti potete scriverci su whatsapp al 348 888 1447 o se preferite radiocivita in blu chiaccia la gmail.com un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in blu Grazie